confonde con chi è aiutato e servito. L'industria del turismo si è ripresa alla grande e di questo passo potrebbero essere superate le cifre da record del 2019. Per il fine settimana di Pasqua è boom di turisti con una spesa complessiva che raggiunge i 4 miliardi di euro. Circa 12 milioni di italiani sono partiti per una media di 3,6 notti e una spesa di 521 euro pro capite per chi ha scelto di rimanere nel nostro paese, ovvero il 95% dei viaggiatori. Come ogni anno si confermano in testa le città Roma, Firenze, Napoli e Milano gremite. Pensate che solo nella capitale gli arrivi dall'estero rispetto all'anno scorso sono aumentati del 47% e poi Venezia che tra oggi e domani potrebbe oltrepassare le 100 mila presenze. Noi veniamo da Salerno. Viene a Venezia che merita sempre una visita. Ci siamo dati da fare, abbiamo fatto diversi chilometri a piedi, 29 mila passi ieri. Buone cifre per la filiera secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio anche in alcune regioni inedite come Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Molise di cui cresce l'attrattività grazie alla promozione e alla valorizzazione del territorio a partire dai piccoli borghi con 5 mila abitanti dove nasce il 92% delle produzioni tipiche nazionali. Tanti altri che invece cercano il verde incontaminato hanno approfittato della festività per alloggiare in uno degli oltre 25 mila agriturismi dell'entroterra. Oltre mezzo milione di presenze dove scoprire le eccellenze enogastronomiche ma anche la storia, la cultura e le tradizioni del territorio. L'offerta in queste aree si arricchisce sempre di più grazie a servizi innovativi improntati sul benessere per esempio o sull'avventura. Ottime previsioni anche per domani. Quasi 5 milioni i clienti attesi nei ristoranti secondo Fipe Conf Commercio mentre tanti altri opteranno per una gita fuori porta o per la classica grigliata del lunedì dell'angelo.